...comparso il lato adriatico, moderati invece sulle regioni tirreniche di provenienza da Sardegna, molto mosse gli altri mari, temperature in aumento generalizzato, trae più le potenze, soffermazione in aeronatica e l'età. Ora, venti e tre, soffermazione, io ti, le patate fonte di odio, da Pizzoli, lo speciale scatagliano delle patate. Tra poco in elicola. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.